Ma non è il fatto del pudore, se là c'è sta un fotografo con zoom che mi fa una fotografia. Io sono rovinato, io ho un'immagine da difenda, hai capito? Poi a me sto posto non mi piace, è pieno di trascine. Che cose sono le trascine? Sono pesci che mozzicano, mozzico. Ah sì? Molto male. Che fai? E piantalo, dai! Sta buono, dai, per favore! Sergio, ma che sta facendo un scemo lì per Montalato? Chiavolo scemo!